Lo diciamo noi, non lo dice lei. La sua candidatura è indubbiamente arrivata come un fulmine, non dico a ciel sereno, ma comunque come un fulmine in città. Tra i commenti, ne abbiamo visti tanti, nella sua pagina Facebook, c'è un cittadino che le dice che ha aperto un'autostrada a Ghinelli. Come risponde? Prima di tutto vorrei parlare dei motivi di questa candidatura. Io ho scelto la mia città, ho scelto il luogo in cui amo e nel quale vivo da sempre e voglio portare idee e contributi per la città di Arezzo. Tutto il resto del dibattito non mi interessa, mi sono slegato da ogni appartenenza politica, stanno aderendo a questo progetto tanti cittadini che hanno idee e contributi da dare. Io mi fermirei a una campagna elettorale di contenuti che spero sia apprezzata la città di Arezzo e porti vantaggi in futuro a questa città. La domanda gliel'ho dovuta fare perché dobbiamo sgombrare il campo da chi magari può pensare che questa sia una presa di posizione per comunque slegare il mondo del centro-sinistra. Le posso dire una cosa? Noi siamo a Saione, io le ho chiesto di poter fare qui questa intervista. Questo è un luogo che pullerò le persone, che negli ultimi anni si è riqualificato grazie agli interventi dei cittadini che hanno fatto investimenti di privati. La politica a volte non ha avuto lungimiranza sempre su questo luogo, che invece potrebbe semplicemente con il sostegno anche delle politiche pubbliche essere un luogo assolutamente vivibile come è, ma essere uno dei luoghi centrali di questa città. Quindi questa città va riconnessa, vanno riconnesse le frazioni, i quartieri, vanno riconnesse le persone e va dato valore alle persone. Questo è il motivo per cui mi candido. Qui c'è il Pionta, poco vicino, potrebbe essere il luogo di un grande master in cui invitare giovani, in cui fare innovazione, in cui coinvolge tanti retini che oggi, non solo ad Arezzo ma anche fuori, hanno successo nel mondo dell'università, della ricerca. E questo luogo, la città, può diventare un luogo dell'opportunità, lavoro e coesione sociale. Questo è il futuro che aspetta la città di Arezzo. Questa città ha il polo universitario che non è abbastanza valorizzato, ha delle aziende pubbliche che sono di fatto degli imprenditori, perché il Comune di Arezzo ha aziende di cui partecipa con partecipazioni importanti, che controlla e che possono fare investimenti sull'innovazione e politica industriale. Abbiamo l'ITS, Energia e Ambiente, che è un istituto di formazione secondaria che dà lavoro per i tecnici specializzati. Abbiamo luoghi magnifici, abbiamo risorse da mettere in campo per creare un microsistema dell'innovazione. Manager digitali, crowdfunding, europrogettazione. Questi sono i lavori del futuro, che sono utili anche al nostro tessuto manifatturale e delle imprese. Dove creiamo un ecosistema dove creiamo nuove opportunità di lavoro e dove ovviamente stanno al centro della formazione delle persone i temi che serviranno a un futuro per fare impresa, ricerca, sviluppo e benessere. Ovviamente dare posti di lavoro, di cui poi beneficia tutta la città. Quindi io credo che questa campagna elettorale dovrà basarsi su questi temi qui. E poi ovviamente servono grandi politiche di riconnessione sociale. Bisogna allentare le distanze in questa città, soprattutto dopo la tragedia che abbiamo appena vissuto. E quindi dobbiamo fare in modo che nessuno rimanga escluso. Tante dinamiche della politica comunque le dovrà vivere, anche suo malgrado. Insomma, se andremo a un ballottaggio rimarrà da solo? I cittadini di Arezzo hanno bisogno di parlare di futuro e hanno bisogno di parlare dell'urgenza del presente, soprattutto chi è più in difficoltà. Se noi daremo un dibattito sterile sulle alleanze, sulla mappa, sul risico della politica, io credo che non solo si disintesteranno ma non andranno a votare. E quindi la vittoria sarà monca per chiunque vincerà. Grazie.